Sono Riccardo Domina, agente immobiliare con esperienza ultraventennale e sono qui oggi per farvi vedere un nuovo modo di presentare le case. Oggi siamo a Pochignano in Sardina che vi mostrerò questo appartamento su due livelli con una splendida terrazza con vista magnifica sul campanile e sulla campagna circostante. Questo appartamento è come ogni caratteristica casa di paese che si rispetti. Si sviluppa su più piani sfalzati, tutti gradevolmente emossi. Abbiamo due livelli per circa 200 metri quadrati, salone, cucina, due camere e bagno a piano terra, due camere e bagno e la magnifica terrazza al piano superiore. Oggi abbiamo potuto apprezzare l'accessibilità, gli scorci e la luminosità di questa caratteristica casa a Pochignano. Ma tu, la buona casa!